Ciao e benvenuto su elenco prodotti. Nel video di oggi daremo un'occhiata alla top 5 migliori monitor portatili. Dopo approfondite ricerche e test, abbiamo realizzato questa lista in base al prezzo, alle prestazioni e alle diverse situazioni in cui verranno utilizzati. Se vuoi conoscere la disponibilità e il prezzo aggiornato di questi prodotti, clicca sui link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Numero 5 della nostra lista c'è Asus Zen Screen Megabyte 16 Acquistare. L'Asus Zen Screen Megabyte 16 Acquistare è un monitor portatile USB Type-C da 15,6 pollici che offre immagini FHD straordinari e grande portabilità. Con il supporto della soluzione di segnale ibrido per entrambe le connessioni USB Type-C e USB TAPA, lo Zen Screen Megabyte 16 Acquistare è perfetto per gli utenti di laptop o desktop che hanno bisogno di uno schermo extra. Il profilo sottile e il design leggero di soli 8 mm e 780 G lo rendono facile da portare con te ovunque tu vada, mentre la tecnologia Asus iCare protegge i tuoi occhi da affaticamento e stress. Con il suo design di monitor da viaggio, l'Asus Zen Screen Megabyte 16 Acquistare offre tutto il necessario per essere portato ovunque. A differenza dei display standard, lo schermo del Zen Screen Megabyte 16 Acquistare è progettato con profili sottili e angoli arrotondati che assicurano una visione più confortevole in quanto altezza. Con un rapporto di contrasto dinamico fino a 1000, 1 e luminosità di 250 cd barra m al quadrato. L'Asus Zen Screen Megabyte 16 Acquistare fornisce immagini nitide e brillanti che i tuoi occhi apprezzeranno per tutto il tempo. Il pannello IPS da 15,6 pollici utilizza una tecnologia di antireflessione per ridurre il rischio delle immagini riflettenti e garantire che siano chiare quando vengono visualizzate agli angoli dello schermo. 4 gradi posto abbiamo Lenovo 61 Duat 6 EU. Il Lenovo ThinkVision M14 è un monitor da 35,6 centimetri che offre un'esperienza visiva coinvolgente con il suo grande schermo e l'alta risoluzione di 1920x1080 pixel. L M14 offre un modo più comodo di lavorare, consentendo di visualizzare più documenti fianco a fianco mantenendo il desktop pulito e ordinato. Il design della cornice ultrasottile assicura che le immagini vengano visualizzate nelle loro dimensioni originali senza essere circondate da barre nere in alto, in basso o ai lati per un'esperienza di visualizzazione più naturale. Il design curvo della cornice e le curve del piedistallo, perfetto per l'uso quotidiano, assicurano una presa comoda e stabile mentre si visualizza il contenuto. L M14 è stato misurato sulle linee guida di sviluppatori indipendenti in materia di produttività alla fine del ciclo di vita. LASML Holding NV ha quantificato che corrisponde a circa 2700 mm quadrati di superficie utile ottenuta al giorno. Per confronto, la maggior parte degli ultimi monitor TV ottiene una superficie utile di circa 900 mm quadrati al giorno. Numero 3. Abbiamo HP Elite S14 Display Portatile. Il display portatile HP Elite S14 è un monitor IPS da 14 con un tempo di risposta di 5ms da grigio a grigio. Ha una risoluzione antiriflesso FHD 1920x1080 a 60Hz ed è portatile, rendendolo perfetto per l'uso in movimento. Il cavo USB Type-C fornisce connessioni facili. HP ha annunciato il monitor delle dimensioni di 14 pollici e resa Full HD con un frame 16-9. Si tratta dunque di un notebook tablet che sarà commercializzato a partire dal mese di marzo 2017 a 599 euro. La capacità della batteria è di circa 6 ore ed è possibile ricaricare lo smartphone o il portatile attraverso l'uscita USB Type-C, mentre i driver adottati sono quelli all'interno degli IPS in plane switching, che offrono ampiezza presa angolo chiaro e colori fedeli. L'abbinamento al notebook è comodo grazie all'attacco USB Type-C che permette di collegare il monitor tramite cavo, senza dover ricorrere ad una porta e dunque senza ingombri aggiuntivi. HP progetta le proprie soluzioni IT in modo da offrire agli utenti quel vantaggio competitivo che consente loro di essere più produttivi nel proprio contesto di business. Numero 2. Abbiamo Aperfect Monitor. Il monitor portatile Aperfect è il dispositivo perfetto per i giocatori che cercano un'esperienza di gioco Full HD in viaggio. Questo schermo esterno è realizzato in leghe di alluminio e dispone di un cavo USB-C per la compatibilità con il PC. La custodia protettiva in pelle più assicura che il monitor rimanga al sicuro mentre sei in movimento e la protezione dello schermo fornisce un ulteriore livello di protezione. Il monitor portatile Aperfect ha una risoluzione di 1920x1080 e un rapporto di aspetto 16 e 9. Alimentato da una porta USB-C, il monitor portatile Aperfect è compatibile con controlli di gioco wireless e le interfacce necessarie per l'uso su dispositivi Windows, Mac OS X Thunderbolt 3 e MacBook. La risoluzione del pannello TN Full HD non compromette la qualità delle immagini e offre colori brillanti. Il rapporto di aspetto 16 e 9 consente di vedere film in formato widescreen senza problemi, mentre il rapporto 4 e 3 universalmente riconosciuto è ideale per lavorare allo stesso tempo. Per finire, il numero 1 della nostra lista è 4K monitor portatile. Questo monitor UHD Aperfect è perfetto per lavorare al PCC. La modalità di gioco ottimizza istantaneamente il contrasto dello schermo e il monitor USB-C ha una connessione USB-C 3 in 1 con alimentazione integrata. Questo monitor di design è compatibile con VESA e allo stesso tempo forniamo anche eleganti coperture in pelle PU. Il monitor USB ci permette una perfetta connettività con il tuo PC e le apparecchiature AV con connessioni mini DisplayPort. La tecnologia Flicker Free elimina immediatamente il fastidioso effetto di scintillio dello schermo, garantendo un'esperienza ottimale per gli utenti. A differenza dello standard TN, il monitor UHD IPS è in grado di fornire immagini nitide e dettagliate anche con angolazioni lavorative ridotte da 178 gradi. 8 diverse opzioni del menu consentono adattamenti personalizzati, con finiture in nero lucido o argento e design minimalista. Il monitor TUMO è uno strumento di lavoro funzionale con un design elegante e superiore. Avrai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto premi il pulsante mi piace e se non conosci il canale, iscriviti e premi l'icona della campana per ricevere gli aggiornamenti futuri. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.